La sentenza del Consiglio di Stato getta nel baratro le imprese barneari che sono, costituiscono un settore importante per l'economia turistica e per il settore del turismo in Italia. Sono una peculiarità, circa un milione di operatori turistici barneari, i loro collaboratori, dipendenti, l'indotto delle imprese, circa un milione di soggetti dal primo gennaio 2024 rischia di perdere la loro vita. È una sentenza molto preoccupante che lancia un messaggio di appello alla politica. Risolvete questa questione. La direttiva Bolkestein deve essere disinnescata per i barneari e anche per gli ambulanti. Il decreto legge, la legge che ha approvato il governo sulla concorrenza è un passo avanti positivo che tende a tranquillizzare. La sentenza del Consiglio di Stato rimette in gioco tutto ciò. Il governo assuma questa questione come una delle priorità in Europa e discuta finalmente una soluzione che dia stabilità e certezza ad un settore che altrimenti rischia di perdere la propria peculiarità e rischia di finire nelle mani delle grandi multinazionali straniere o di altri soggetti che possono avere anche forme di finanziamento poco lecite. È un allarme, è un allarme che noi lanciamo come ANOGL e siamo solidali agli operatori barneari e auspichiamo un'iniziativa forte e congiunta di tutte le forze politiche del governo verso l'Unione Europea.